Gossip, Jessica Alba incinta del terzo figlio dal marito Cash Warren Gossip Jessica Alba incinta per la terza volta, scopriamo il sesso del terzo figlio. Gossip, Jessica Alba è incinta del terzo figlio. Jessica Alba condivide ancora le novità sul bimbo in arrivo attraverso i social. Infatti aveva fatto sapere di essere nuovamente incinta già questa estate, con un video messaggio sul social insieme alle due figliolette. Per fare la mamma a tempo pieno, l'attrice ha messo da parte il cinema e dedicandosi soltanto alla propria azienda dei prodotti di bellezza e per la casa. Ma la notizia rilasciata sui social ore fa, riguarda il sesso del nascituro, sarà un maschietto. E la nascita è prevista tra la fine del 2017 e i primi del 2018. Il terzo genito per l'attrice e suo marito Cash Warren, la prima figlioletta è Honor Marie di 9 anni, mentre la seconda è Evan Garner di 6 anni. Il post rilasciato dalla star di Hollywood con la bella notizia è stato un breve video in cui le bambine fanno cadere da una scatola posizionata sopra la testa della madre una pioggia di palloncini e festoni rigorosamente blu, Cash Warren ed io non potremmo essere più elettrizzati di annunciare terminando la frase con un cuoricino blu. Un mega regalo per i suoi fan. Gossip, Jessica Alba incinta, posta il video su Instagram per annunciare che aspetta il terzo figlio. Gossip, Jessica Alba incinta, l'uso dei social per annunciare gli eti eventi non è una novità per Jessica Alba. Qualche mese fa infatti, aveva postato un video messaggio sui social per annunciare ai fan che lei e il marito, il produttore cinematografico Cash Warren, fossero in attesa della terza cicogna. E anche questo video messaggio coinvolgeva le piccole che stanno insieme a mamma Jessica nel video, mentre stringono dei palloncini a forma di numeri 1, la più grande, e 2, la piccola. Il numero 3 è il palloncino della Alba, che lo fa ondeggiare sorridente mentre si accarezza il pancino appena accennato. Gossip, Jessica Alba incinta, 30. Divisa tra la sua carriera da attrice e da imprenditrice, Jessica Alba ha sempre raccontato che il lavoro che dora di più è l'entusiasmante vita da mamma, e non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia. Jessica Alba infatti appena un anno fa, diceva su People, sono stata sposata con il mio lavoro per così tanto tempo. Adesso è tempo di una nuova fase. E così è stato il. Ciao. 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 Ciao.